E' stata pubblicata da Lente Parco un'importante manifestazione di interesse rivolta alle strutture turistiche del territorio, finalizzata all'individuazione delle strutture ricettive ricadenti nel territorio del parco, interessate a partecipare all'iniziativa ai cesti dell'accoglienza del parco. L'iniziativa mira a sostenere e a tutelare le produzioni di qualità e di eccellenza del nostro territorio, rafforzandone la conoscenza tra i visitatori del parco e inoltre vuole intercettare nuovi flussi turistici al tempo stesso sensibilizzandoli verso una maggiore conoscenza del territorio dell'area protetta e una maggiore consapevolezza delle produzioni tipiche locali, protette e sostenute mediante la concessione del marchio del parco. Alle strutture ricettive ed erenti verranno consegnati un numero determinato di cesti dell'accoglienza del parco con cui fare omaggio ai nuclei familiari che trascorreranno un soggiorno minimo di due notti nel periodo dal 1 settembre al 31 ottobre 2021. I cesti, confezionati con prodotti tipici locali forniti dalle aziende a marchio parco, rappresenteranno l'eccellenza della produzione agricola ed artigianale del territorio. Con l'iniziativa dei cesti dell'accoglienza vogliamo promuovere e valorizzare la nostra territorialità attraverso l'eccellente lavoro svolto con amore, dedizione e sacrificio dai numerosi e validissimi produttori del nostro parco, ha dichiarato il presidente Tommaso Pellegrino. Le istanze di partecipazione possono essere inviate all'indirizzo PEC istituzionale dell'ente parco, parco.cilentodianoealburni.it, che provvederà a determinare il numero di cesti da attribuire a ciascuna struttura e le modalità di consegna degli stessi.